Ciao a tutti amici, ben ritrovati nel mio piccolo antro dove vengo a rintanarmi ogni volta che una storia chiede di essere narrata ad alta voce. Mi trovo qui perché vorrei festeggiare in vostra compagnia una cosa bellissima che mi è da poco capitata. E voi direte, vabbè, ma a te capitano cose bellissime un giorno sì e l'altro pure, oramai non fa più notizia. E invece sì, questa cosa è unica nel suo genere, perché finalmente il mio canale ha raggiunto i primi 800 iscritti. Quindi mi piacerebbe ringraziare dal profondo del cuore tutte le persone che mi hanno permesso di raggiungere questo piccolo traguardo. Un grazie sincero e sentito va a chiunque mi lasci like, a chiunque ascolti quotidianamente le cose che pubblico, a chiunque mi dia consigli di nuovi racconti da proporre e a tutte le persone che mi lasciano bellissimi commenti pieni di complimenti, che comunque fanno sempre piacere. Sono davvero molto incoraggianti. Vorrei fare un saluto speciale a una persona che mi segue con grande costanza e affetto e che so che segue anche tutti i miei colleghi narratori, la meravigliosa Santi. Santi, questo bacio gigante è per te. Grazie per esserci e grazie per le bellissime parole che hai sempre per tutti noi. Voglio ringraziare Nero Lupo che mi ha suggerito molti dei racconti che ho apportato per il ciclo dedicato a Philip K. Dick. Voglio ringraziare Mirko. Mirko lascia sempre dei commenti meravigliosi e mi ascolta con grande interesse. Quindi davvero sei la gioia di ogni narratore. Ci fossero più commentatori come te saremmo tutti più felici. Poi voglio ringraziare tutti i miei colleghi narratori. Vorrei fare qualche nome. Valentina la musifavolista che è meravigliosa. Ascoltatela perché ha una voce veramente splendida. Vir, dolcissima, fantastica. Io l'adoro. Poi voglio ringraziare Zelkor che mi ha permesso di narrare molte delle sue storie. Voglio salutare e ringraziare per tutto quanto Dami, Patrick. Dami di Gli Audio Racconti by Dami, Patrick di Audio Raccontando, Edo di Menestrandis, Excel della Locanda della Tormenta, Francesco del Fantasto Mondico che ho recentemente intervistato e tutte le persone che in qualche modo in questo periodo hanno portato qualcosa di bello nella mia vita, nella mia vita da narratrice che per me è comunque estremamente importante. Voglio ringraziare anche Antonio Montagnani, Foto Inutili 75 con il quale ho aperto un canale parallelo dedicato alla recensione di libri, dischi e fumetti. Se ho dimenticato qualcuno, scusatemi, non lo faccio per cattiveria ma perché sono emozionata e perché ogni tanto perdo il filo del discorso. Quindi mi piacerebbe dedicarvi a una poesia, una poesia che io trovo bellissima, che ogni volta che la leggo mi scalda il cuore. Spero possa emozionare anche voi. E' di William Butler Yeats e si intitola L'isola del lago di Innisfree. Io voglio alzarmi ora e voglio andare ad Innisfree e costruire là una capannuccia fatta d'argilla e vimini. Nove filari e fave voglio averci e un alveare e vivere da solo nella radura dove ronza l'ape. E un po' di pace avrò, che pace viene lenta, fluendo stilla a stilla dai veli del mattino dove i grilli cantano. E' mezzanotte e tutto un luccicare ed il meriggio brilla come di porpora e l'ali dei fanelli ricolmano la sera. Io voglio alzarmi ora e voglio andare perché la notte e il giorno odo l'acqua del lago sciabordare presso la riva di un suono lieve. E mentre mi soffermo per la strada, sui marciapiedi grigi, nell'intimo del cuore, ecco, la sento. Questa era la bellissima traduzione a cura di Roberto Sanesi per l'edizione Mondadori. Spero che la poesia vi sia piaciuta, spero di non averla narrata troppo male e vi abbraccio tutti e ci vediamo presto con il prossimo video nel quale parlerò di... ciao!